e buongiorno benvenuti siamo naturalmente sempre in presenza di grandi ospiti ritrovo con piacere marta gastini ciao marta ciao piacere di rivederti e ritrovo per la prima volta alessandro giglio regista del film del quale parleremo quest'oggi black partenope ciao che poi è una cosa un po strana nel senso che in realtà in italia arriva come nero partenope giusto oppure rimane black partenope no black partenope ok 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 no per questa cosa che ne parlavamo anche fuori onda cioè che il film è stato girato in lingua inglese però poi naturalmente c'è anche la versione italiana insomma per la distribuzione italiana questo lo spiegheremo fra poco però prima alessandro se mi permetti visto che il film comunque è uscito da poco tempo chi magari ancora non è andato a vederlo magari potrebbe essere attratto dalla trama di questo film che ti faccio raccontare il film è diciamola la trama è un pretesto per raccontare insomma un luogo vastissimo enorme 27 chilometri quadrati sotto la città di napoli con delle proporzioni gigantesche galleria di 30 metri d'altezza così però la trama in effetti quello che posso dire che arriva in città questa figlia di un ricco immobiliarista francese per fare un ultimo sopralluogo in una parte della città sotterranea perché ha acquistato delle concessioni per farne dei parcheggi sì allo? Cécile, tutto è pronto per demain? Evidemment tu me conosci, tutto è in place e poi contraremmo a te donne, non mi lascia distraire per il parfum delle belle donne se ti rifiare a Marcus Lang, non ti preoccupi, non ti preoccupi, non ti viendrai tutto è tra le mani io ti prego, questo progetto vale un milione dopo tutte queste anni, io avrei benvenuto un po' di te confiere questo è sufficiente puoi me dire perché il PDG Jacques Bonnet ha bisogno di s'entourare di questo tipo di persone? C'è lui il membro a droit Greta arriva demain con la clé USB per attivare uno dei nostri gruppi off-shore per la transazione, devi uscire un codice a 6 numeri E quale sono le 6 numeri? Ho chiesto una data facile che puoi rappele quella della morte di tua madre Buongiorno Papa Da lì accompagnato dal suo assistente poi dall'assistente del padre che è Marta il personaggio di Marta insieme a un preposto del comune uno che viaggia, che si muove anche nella politica che è Nicola Nocella, il geometra incontrano Antonio che è l'erede di queste concessioni che è Gianluca Di Gennaro e ad aspettarli, diciamo, c'è il custode questa guida che ha vissuto ha dedicato tutta la sua vita a preservare a raccontare questi luoghi che è Gennaro ha interpretato da Giovanni Esposito il grandissimo Giovanni Esposito è vero, è vero, tra l'altro in una versione mai vista che è l'assistente della protagonista che è Jenna Tiam che è Mazzara Firuzi che interpreta Gianluca e ci sono tutti questi personaggi che si ritrovano, diciamo, in questo luogo e poi quello che succede lo vedrete al cinema, naturalmente assolutamente è giusto, è giusto non andare a spoilerare altro noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo quindi abbiamo visto che è un film molto originale in quanto in Italia è difficile portare il genere, diciamo, horror se vogliamo intenderlo così ma è comunque film che mettono tensione ecco, da dove ti è venuta questa idea? guarda, io ho fatto tanta gavetta io ho sempre spiorato, diciamo, il mio esordio a un certo punto io vivo da tanti anni a Roma da vent'anni a Roma più mi allontanavo dalla mia città più comprendevo quali erano le origini la bellezza e l'unicità di questo luogo e volevo questa Napoli sotterranea ma sempre affascinato fin da bambino insomma vado a fare una visita guidata di notte con un mio carissimo amico eravamo penso tre persone c'era questa guida che inizia a parlare questo uomo anziano inizia a parlare inizia a raccontare si accompagna in questi meandri insomma a me mi è iniziata a venire un po' l'idea l'idea di come raccontare di questa figura magica e leggendaria che è il Monacello è la sua leggenda più profonda infatti nel film poi il protagonista insomma è anche lui assolutamente anzi è più protagonista forse dei protagonisti se vogliamo a me ha ricordato prendilo ovviamente con le pinze un po' la storia del fantasma dell'opera ovviamente senza inserire naturalmente le condizioni amorose no all'interno del film però mi ha ricordato ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio quello è un film a cui sono molto legato una storia a cui sono molto legato è una figura che mi ha sempre affascinato Marta il personaggio di Greta questo personaggio particolare se vogliamo definirlo così com'è stato interpretarlo? dunque sarà un po' difficile parlare di Greta perché bisogna ovviamente non spoilerare nulla sulla trama sulle relazioni tra i personaggi però è stato molto divertente un po' perché a me piace interpretare personaggi che si inseriscono in un genere no? essendo questo un film di genere sapevo che mi sarei divertita molto quando Alessandro infatti mi ha contattata proponendomi insomma di partecipare sono stata felice anche perché ho trovato un film beh con una trama mozzafiato e poi che racconta Napoli anche in maniera completamente diversa rispetto a quello che è il racconto di Napoli che si fa più spesso come dire quindi questo già mi aveva attratto moltissimo e poi il personaggio di Greta che è insomma questa donna in carriera si capisce da subito che fra le due protagoniste non c'è un'amicizia tenera questo è abbastanza evidente dall'inizio e questa Greta è una che sta un po' sulle sue un pochino snob un pochino rigida ecco quindi come dire ho cercato di lavorare su questi aspetti che in parte da piemontese appartengono un pochino anche a me e quindi ho cercato di lavorare su questo ecco però lavorare su questo film è stato bellissimo devo ammettere assai stancante perché chiaramente la Napoli sotterranea che è un luogo veramente magico però è un luogo che ti mette alla prova soprattutto quando devi correre parecchio a un certo punto sembrava un film di Tom Cruise scorrevano abbastanza e quindi certo ci sono state giornate in cui arrivavo la sera veramente fisicamente stanca ma molto felice con la testa proprio piena di buone cose perciò è stato bello tra l'altro un personaggio di origine bulgara noi diciamolo non l'abbiamo potuto vedere in lingua originale tu penso che hai dato quell'accento un po' bulgaro in versione originale giusto? ho cercato un pochino in realtà non ho voluto caratterizzarlo eccessivamente per non scadere in qualcosa che non fosse corretto e quindi ho cercato di fare un inglese che fosse come dire un europeo pulito quindi se lo sentirete non sarà immediatamente identificabile come dell'est ma europeo pulito ecco si capisce non è americana chiaramente non è inglese viene da qualche parte in europa e la cosa secondo me interessante che abbiamo fatto da un punto di vista linguistico è che il film non è stato girato tutto in inglese cioè è stato girato se c'erano due personaggi italiani che parlavano parlavano in italiano no? quindi a seconda di quello che era richiesto dal testo dai personaggi la lingua parlata andava di conseguenza che secondo me è anche il trend più interessante al momento assolutamente alessandro questa scelta tra l'altro di questi attori stranieri io ho letto che la produzione sia italiana ovviamente ma anche spagnola però loro addirittura sono francesi come mai questa scelta? ma la storia ripeto io ho cercato quasi a tavolino di concepire una storia che potesse essere quanto italiana d'identità napoletana d'identità italiana perché io penso che noi dobbiamo fare dei film della nostra identità però con dei codici che riescono ad arrivare quante più persone possibili quindi a un certo punto veniva fuori la storia e la scelta poi dell'inglese era d'obbligo e arrivava questa persona straniera cioè in Italia ha a che fare con degli italiani qual è la lingua più giusta era una situazione d'affari e quindi si parla in inglese con i rispettivi accenti come diceva poi Marti ti ripeto la scelta poi di questa roba qua perché vorrei che questo luogo arrivasse quante più persone possibile infatti ci sono delle cose in ballo con interessa molto all'estero perché è un posto pazzesco no ma poi essendo film di genere aiuta no? è un film di genere diciamo io almeno a me piace definirlo un misteri che fa anche delle incursioni in altri generi com'è con l'horror nel senso più puro della parola e via dicendo no? sì non c'è un estremo dell'horror in questo caso sì no non c'è non c'è è un film che ha delle tensioni che vanno anche in altri generi ma le difficoltà nel girare la giù? io lo chiedo a tutti e due perché credo che ce ne siano state tantissime no? penso soprattutto per il gruppo guarda io è un film che non dico quanti anni ci abbiamo messo a mettermi in piedi anche perché è un film indipendente è un film che diciamo nessuno voleva fare per le difficoltà considera che tu tra nell'arco di 20 metri le radio non funzionano perché ci sono delle mura fessissime da 5 metri, 6 metri ma la cosa più sorprendente di tutto è che questo luogo è stato costruito nell'arco di 3 mila anni quindi si è ampliato e tutto questo a mano, scavato a mano è un'opera pazzesca di veramente di infatti quello che per me è già una grandissima vittoria essere riuscito a fare un film del genere in quel posto che ti ripeto è noi ci mettevamo, arrivavamo, scendevamo in uno dei siti per arrivare poi all'ambiente dove girare ci mettevi pure un quarto d'ora perché ci si perde alla fine all'interno di quel posto tutto questo avendo un tempo strettissimo, un budget ridotto ed era quello io non potevo permettermi di infatti ringrazio, ora c'è Marta davanti e la ringrazio perché a un certo punto, anzi subito, siamo diventati una macchina perfetta con le difficoltà del caso però tutti viaggiavamo nella stessa direzione truff, cast, tutto ma deve essere stato anche un po' claustrofobico se vuoi perché ci sono delle scene dove veramente gli spazi sono ridottissimi infatti io non so come avete fatto a fare le riprese all'interno comunque il lavoro è uscito molto molto bene quindi io mi auguro che venga apprezzato anche dal pubblico questo sforzo che avete avuto all'interno di questi ruoli che poi tra l'altro penso che siano sempre i sotterrani tutte le scene sono girate nei sotterrani non c'è niente di ricostruito con te sono tutte scenografie insomma insistenti ed era anche quella la voglia di voler raccontare un luogo che esiste che magari non è così conosciuto perché magari uno quando va a Napoli non si fa subito l'idea di andare giù e sotterrani invece ci sono vari posti tanti altri purtroppo tutti questi luoghi sono tutti gestiti e sono stati riscoperti dalle associazioni e se ne occupano perché devi sapere una cosa questo io ci tengo a dirlo anche per premiare queste persone dopo la seconda guerra mondiale tutti i materiali di risulta sono stati buttati in questi sotterranei loro sbancano scavano a mano per riprendere di far rivedere questi luoghi materiali che hanno un'altezza di 5-6 mesi riportano via a mano con dei sacchetti tutti i ragazzi che vanno là nel loro tempo libero ed è una cosa pazzesca dove non voglio fare una critica è una cosa però è vero infatti c'è una figura del geometra che un po' incarna un po' purtroppo una politica che a volte è molto cieca su delle cose su un patrimonio che però al di là di questo io parlo del film però mi viene perché io sono uno che è molto appassionato ma oggi come oggi purtroppo la politica in un certo senso vuoi o non vuoi entra sempre all'interno delle dinamiche cinematografiche anche per quello che è la distribuzione dei vari cinema in giro per l'Italia la distribuzione in sé per sé proprio purtroppo c'entra perché se tu vai magari in Francia in Spagna hanno un modo diverso di intendere il cinema e là infatti non si sta perdendo più di tanto invece qua pare che sì vabbè da qui c'è un per fortuna il ministro è attento su questa roba Franceschini che stanno combattendo per tenere i film quanto più tempo in sala il problema è lo stacco tra la sala cioè il tempo tra la sala e la piattaforma e la piattaforma per questo in Francia e in Spagna hanno una grossa tenuta i film sì 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 secondo te parleس il sintomo quadro poter กrappano avviene contenGL visit tutti tutte lavaviene La Sì. Secondo me c'è un messaggio, Alessandro mi correggerà, anche Marta volendo, che è quello di una società di arrivisti ormai in Italia, in questo caso, pronto a tutto per, diciamo, chiamiamolo il potere, però dietro ci sono sicuramente tante altre cose. Beh, un'altra figura pure interessante è Antonio, questo giovane ragazzo che ha avuto in eredità queste concezioni, quindi in qualche modo voleva incarnare un po' questa disillusione che c'è nei giovani, dove non sono stati neanche educati a comprendere le loro origini per poi poterne farne un'identità nuova. E quindi lui non se ne prega niente, cioè per lui gli vuole vendere tutto, sono pietre vecchie. E' un po' anche il contrasto fra il voler proteggere la tradizione e la storia e invece guardare al futuro e al progresso in qualche modo. Quindi cosa fai, cosa pesa di più sulla bilancia? È vero, con intanto l'altra figura che invece è interpretata questo custode, che ci ha messo praticamente la vita all'interno di questa cava, definiamola così. Infatti è proprio questa una cosa che comunque salta all'occhio e funziona ovviamente all'interno del film. Marta, parlavamo prima delle difficoltà all'interno di questa cava nel poter interpretare il tuo personaggio, ma in generale da parte di tutti. Ma le risate ci sono state? Qualche aneddoto divertente all'interno del set ci sono state? Alessandro Rie. Grazie moltissime, moltissime. Anche perché con Nicola Nocella è sicura. Giovanni Esposio, forse voi non avete mai lavorato con loro. No, incontrato direttamente no, ma conosco insomma. È impossibile, cioè è una roba proprio… A Nicola sì, l'avevo incontrato invece, sì. Era un continuo, era un continuo e io poi c'è uno che gli piace molto scherzare e sapevo che dopo la battuta c'era il professionista in un attimo, si smussava là e non si andava mai verso una deriva insomma troppo goliardica, quindi io ero ben contento di questa roba qua. Marta è un'altra persona che ci puoi scherzare con Marta, questo è importante. Non male. È una che non se la prende, capito? Questo è fatto, ma tutti capivano che c'era stata e c'è stato un continuo. Infatti vi invito a vedere il backstage che è una roba stupenda, fatto da Luciano Russo e si comprende veramente l'impresa fatta. Ricordo sempre questo scherzo che non c'è purtroppo però il backstage fatto a Genna, sono sbucato da un cunicolo improvvisamente a Genna e stava per bene farsi un infarto insomma. Beh forse Ale se lo vuoi raccontare è anche un aneddoto che è divertente in sé, noi ecco non abbiamo riso tanto per questo ma l'aneddoto della barca. Insomma vabbè c'è questa scena che voi avete visto, per scalare questa barca nel sottosuolo che non entrava. No la barca non l'abbiamo portata, la barca non entrava quindi così abbiamo avuto la fortuna stavano facendo degli scavi per una metropolitana e quindi la nostra produttiva Silvana Leonardi si è armata di non so quale trucco con una gru l'hanno calata. Noi stavamo invece girando mentre calavano questa barca in un'altra. Calano la barca, la barca si spacca su. E allora loro, Marta, Marta e Genna fanno io chiamo lo stop, vabbè cambiamo ambiente. Guarda la barca è rotta, vabbè non mi prendete in giro, non è un momento giusto. No la barca che stava arrivati la barca si era spaccata e quindi là panico però tutti insieme a mettere a posto questa barca nel giro di mezz'ora. Però poi abbiamo girato che imbarcava acqua. Ah sì? E quindi tra uno stop e un altro c'era Giovanni Esposito che prendeva in giro l'oro che stavano con sto secchietto in mano. E vabbè il cinema è così. Infatti mi piace che vengano raccontate anche queste cose da backstage perché uno magari poi vede un film appunto drammatico, thriller, horror, insomma che non si aspetta ovviamente che dietro poi invece ci sono tantissime risate o magari se lo puoi aspettare però raccontate direttamente dai protagonisti fa pensare di più ecco nel senso far ridere e far pensare di più. Vabbè ma è un film quando lo fai c'è tanta vita, tante cose, c'è tanta roba. Per forza se no. Sì, sì, sì. Alla fine sì c'è del professionismo, ci sta, è normale però ci deve essere anche tanto divertimento secondo me. Sì, ma ecco come ti dicevo te lo puoi permettere quando poi ci sono dei professionisti no? Che sanno che c'è una linea invisibile che non si supera mai, non si supera mai, quindi subito in carreggiata, ecco poi quando sei un professionista è un attimo che sai il fatto suo, quindi si può permettere delle cose. Tra l'altro citazione per appunto Giovanni Esposito che credo fosse il primo film che lui fa una parte diversa dall'assolito no? Sì, sì, sì. Di solito è un commedia, insomma, comica. Sì, assolutamente, ma invece io lo conosco molto bene, ho avuto la fortuna insomma che lui ha fatto il mio primo cortometraggio, abbiamo scritto un film insieme che poi non si è fatto ma che era una commedia, però siamo molto amici e lui è strepitoso, lui è un attore che può fare qualunque cosa, infatti non si può dire. Sì, sì, è peccato che magari quando la gente lo vede lo riconosce solo per quel tipo di personaggio, in realtà secondo me l'attore deve sapere davvero fare di tutto e quindi in questo caso è giusto omaggiare in questo caso Giovanni Esposito. Bene, 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 allora caro Alessandro siamo giunti al momento della torre, questo gioco che ti preannunciavo prima, allora tu praticamente adesso avrai a disposizione due opzioni, di queste due opzioni una la devi buttare giù, d'accordo? Ovviamente è quella che magari meno ti si addice, queste cose sono parte diciamo della tua vita, della tua carriera, non solo, del cinema in generale. Hai anche a disposizione un bonus, così tu puoi non rispondere qualora non volessi rispondere, però uno solo, d'accordo? Ok, ok, ok. Bene, iniziamo, ovviamente io con Marta l'ho già fatto quindi non posso riprodurre le stesse cose, però se lei volesse rispondere ad alcune cose che magari non sono state dette in precedenza, che lei se lo ricorda meglio di me sicuramente, allora lo può fare. Allora, ti chiedo cinema o teatro, visto che tu hai fatto tutti e due? Ti devo buttare giù? Ovvio il teatro. Ah, proprio ovvio? No, ma perché comunque è quel bambino che ha sognato per chi ci ha buttato il teatro. Ah, ok. Quando sono andato a vedere uno spettacolo due giorni fa, di Giorgio Pinto, che è anche lui nel film, ed è il Monacello. Che non si, non si, cioè si vede ma non si vede. Sì, non si vede che, insomma, è sotto le vesti del Monacello, è stata una roba strepitosa, dove io sognavo, cioè un trasporto pazzesco, però è normale che dico, cioè... Spielberg o Tarantino? Due grandi registi contemporanei. Tarantino? Ma lo amo, ma lo amo, lo amo, però ti dico una cosa, questo è il mio parere per San, Spielberg è un musicista che può scrivere anche la musica, Tarantino è un grandissimo DJ che premixa in una maniera unica, però Spielberg la scrive la musica. Per me, questo è il mio parere, ha fatto tutti i generi. No, mi è piaciuta questa metafora musicale, perché in effetti è vero, Spielberg ha fatto davvero tutti i generi, mentre Tarantino magari ha inventato un genere, però lui l'ha fatto davvero tutti i generi. No, Tarantino, ti ripeto, per me è un DJ, capito, che premixa in una maniera strepitosa, eh ma non è molto, capito? Ci sta, ci sta. Eh no, dico, mi è piaciuta questa metafora musicale che mi porta al prossimo, diciamo, alla prossima cosa della torre. Ti chiedo, dal punto di vista musicale, vediamo un po' qual è il tuo genere, qualcosa di passato e qualcosa di futuro, di contemporaneo, legato alla città di Napoli. Ti chiedo, Mario Merola o Liberato? Beh, ti dico Liberato subito. Lo butti giù? No, no, Mario Merola, ma non per il maestro, però lui diciamo che è meno, incarna meno il mio vissuto napoletano. Mi affascina tantissimo, è una figura mitologica, Mario Merola, è una figura mitologica, è un uomo che ha vissuto delle cose, è un uomo di riscatto, è un uomo che si è costruito da sé. Sono anche dei generi diversi. Però Liberato è quello che è, fa una roba che paragonata al cinema mi piacerebbe, cioè mischia il vecchio e il nuovo in maniera, secondo me, greggia. Almeno fino al penultimo, l'ultimo non l'ho sentito benissimo. Bene, ti chiedo adesso, e questo è difficile, vediamo se si gioca il jolly, Nicola Nocella o Giovanni Esposito? Ah, senza ombra di dubbio, Nicola Nocella. Quindi giù Nicola Nocella. No, ma è ovvio, cioè, non può, ma non è Nicola, io lo amo, io voglio molto molto bene, però anche gli voglio bene. Però, per come ne hai parlato prima anche a livello umano di Giovanni Esposito. Però con Giovanni, cioè, sapete che voglio dire, ma Nicola, io penso che Nicola è quello che mi dice, è bene lui stesso, dire butta a me. Ah, ok, nel senso, hai fatto bene, hai fatto la scelta giusta. Allora, da buon campano, andiamo un po' sul culinario, riccia o frolla? Diciamo che non mangi dolci, però la frolla tutta la vita. Ah, quindi salvi la frolla. Sì, era un ricordo mio di Babby. Ah, beh, ci sta. Il nonno mi comprava la frolla. Diciamo che, bella questa cosa, no, diciamo che comunque uno non mangia i dolci, ma nella vita almeno una sfogliatella l'ha dovuta provare. Oh, sì. Anche più di una. Una volta che giri a Napoli, devo dire che lì si ingrassa. È finita, è finita, chiamo i dolci a Napoli, è finita. Bene, bene, passiamo all'ultima, quella che, diciamo, secondo me, dà sempre un po' di problemi nella risposta, però poi dipende ovviamente dal pensiero. Disney classici o Disney Pixar? Pixar. Ti butti giù? Ah, no, i classici. Butti giù i classici? Ti dico perché per me i classici ne ho vestito talmente pochi. Ah. Non ero un appassionato di Disney, grande Peter Pan, spada nella roccia, basta. Invece i Pixar magari ti danno anche qualcosa di più. No, no, mi hanno divertito di più, mi hanno divertito di più. Ok, ok. Sei stato abbastanza chiaro. Abbiamo finito la torre, non hai neanche usato il bonus, Alessandro. Vabbè, se ci penso, lo devo usare così, però voi siete delle carogne, perché pensavo che dopo c'era una proprio, sempre me lo sono conservato alla fine. No, adesso non esageriamo. No, vabbè. Bene, bene, bene. Marzia non ha voluto rispondere a nessuno, a suo giro si è stenuta. Sì, perché secondo me doveva viverselo Alessandro, questo gioco, perché un'altra volta mi sono divertita, ma ha anche portato Fortuna, quindi se ci sarà una prossima volta invece vedremo, magari qualche gioco no. Magari mi riportate Fortuna. Magari, magari, questa è una cosa bella che ci dici. Bene, bene, allora siamo praticamente quasi alla conclusione, io ovviamente, come al solito vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi chiedo ovviamente se ci sono delle cose nuove, dei progetti nuovi che sono arrivati, che stanno arrivando, l'altra volta Marta credo abbia anche citato Black Barton, perché sarebbe uscita insomma, e adesso invece vediamo se c'è qualcosina in più. Dunque, sì, se ne parlerà fra un pochino, ed è un progetto di teatro. Allora abbiamo portato Fortuna per questo, diciamo. Sì, perché vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto, perché a questo punto del mio percorso lo ritenevo importante ed è arrivato, perciò bene. Bene, girerai? Girerai un po' un tour? Girerò un po' e se vi farà piacere ovviamente poi vi darò dettagli per ora. Come no? Attendo di averli io, quindi poi vi dirò. Siamo sempre in contatto con Marta, quindi ti aspettiamo anche giù in Calambria, mi raccomando. Volentieri. Alessandro, invece tu hai già scritto qualcosa di nuovo? Sì, ho scritto insieme a Giovanni Marzitelli e Mara Fondacaro. Abbiamo scritto una trilogia, spero presto di poterla annunciare. È un personaggio che attraversa tre storie. È un supernatural questa volta, però molto più drammatico, dove rispetto a Black Parten c'è una profondità maggiore, c'è una voglia di esplorare molto molto di più. dei traumi della fisica, insomma, che poi diventano una rappresentazione, diciamo, supernatura, soprannaturale. Sempre a parte da questa campagna indefinita, arrivare su in Alpitale e poi muoversi liberamente. Bene, bene. E allora a questo punto io di nuovo vi ringrazio. Salutiamo naturalmente sia Marta. Ciao Marta. Ciao, grazie mille. E sia naturalmente il nostro regista Alessandro Gini. Ciao Alessandro. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Alla prossima, scendi anche tu in Calabria che ti aspettiamo. Assolutamente, mi associo a Calabria. Ah, vedi, quindi c'è la possibilità. Anche il mio suocero, vedi. Vedi? Allora andiamo insieme. Forza, noi vi aspettiamo sempre. Bene, bene, ciao, grazie.